Grazie Presidente. Io volevo evitare di intervenire, però visto che qui si cerca, come ha detto la collega Pocanzi, di sostenere che magari non bisogna ripetere quanto detto in Commissione o bisogna ripeterlo, allora forse è meglio che ripeto quanto già detto in quest'Aula e che vi dovrebbe un attimino, quantomeno, indurre a riflettere. Le parole sono le seguenti. Agostino Pizzuto, detto il Basettone, Davide Faraone, 11 dicembre 2013. Collega, collega Hermini, vi ricordate il tutto? Colleghi, vi ricordate quando il tutto scritto informò questa Aula? Allora, non è accettabile questo tipo di comportamento che si urla. Colleghi, se permettete il richiamo lo faccio io se ce n'è bisogno e voi avete i richiami al regolamento. Ci sono i richiami al regolamento se ce n'è bisogno. Questo non è un comportamento accettabile ed è da censura. Presidente, apprendo che in quest'Aula non si possono neanche fare domande. Prego, concluda, le sto dicendo che deve concludere. In 15 secondi completerò l'intervento. Ebbene, dopo quella denuncia, dopo quello che vi ho raccontato, il vostro collega che ha minacciato Querela nei miei confronti, sono passati più di 100 giorni e non c'è stato nulla, nulla! Vergogna, vergognatevi! Basta, Nuti, la richiamo formalmente, non può richiamare.